13 minuti di ordinario dominio e spregiudicatezza bastano a Lecce per passare in vantaggio contro il Pescara. Su corner la formazione giallorossa porta ben 9 uomini negli ultimi 16 metri, lo schema prevede il movimento incontro di Venuti, la Mantia temporeggia quanto basta per mandare fuori tempo Campagnaro e lo aggira alle spalle per realizzare implacabile il gol dell'1-0. Il Pescara si schiera specchio con lo stesso modulo dei Salentini, il 4-3-1-2. L'obiettivo di Pillon è quello di fossilizzare il gioco del Lecce attraverso i duelli tra i singoli, ma quello dei giallorossi è un moto perpetuo dove non esistono posizioni fisse. I movimenti di Petriccione, che si lancia in avanti e Mancosu, che parte da dietro, fanno saltare le marcature. E così il trequartista sardo può sopraggiungere al rimorchio ed esibirsi in una giocata di potenza e precisione che vale il 2-0. Nella seconda frazione il Lecce dà spettacolo e incanta i 13.000 del Via del Mare trascinato da Mancosu, autentico capitano ovunque. L'autore del raddoppio, ancora più libero di agire quando il Pescara passa al 3-5-2 e Marras si fa espellere, è sempre al centro della manovra e all'ottantunesimo dirige l'orchestra del gioco con la freschezza e la corsa di inizio gara. In un possesso palla consecutivo della durata di 50 secondi viene chiamato in causa sei volte duettando con Falco, Petriccione e Calderoni. La spinta incessante del terzino sinistro gli permette di concludere l'azione sfiorando il gol con la più classica delle triangolazioni. Soltanto i pochi centimetri di imprecisione dalla porta di Fiorillo gli negano la doppietta personale ma non cambiano la sostanza di una prestazione eccezionale sua e di tutto il lecce.